Buongiorno, intanto oggi continueremo la lezione che abbiamo iniziato ieri sui flussi di fluidi in conflitto. Allora, ieri abbiamo terminato la lezione, un po' meno di fretta perché era finito il tempo, no? Abbiamo terminato la lezione con quell'esercizio che in realtà ci ha fatto quello di un flusso che attraverso un, l'abbiamo chiamato genericamente condotto diciamo così a sezione variabile, questo flusso veniva da un contenitore ampio per cui si poteva ritenere con buona approssimazione che il fluido all'interno del serbatoio fosse sostanzialmente fermo, il che significa che pressione e temperatura all'interno del serbatoio di fatto coincidevano con pressione e temperatura di ristagno e quello che abbiamo visto è che in questa situazione facendo espandere il fluido da una pressione che possiamo chiamare pressione P con I, pressione iniziale, fino a una pressione che possiamo chiamare P con F, pressione finale, diciamo così, ovviamente il trigonia è la pressione all'interno del serbatoio, no? La pressione iniziale che si trova è fluido. Abbiamo visto che l'area o il raggio, come pervenite, della sezione normale del condotto nella direzione del flusso faceva una cosa del genere, cioè sostanzialmente affinché il fluido continuasse ad espandere dalla pressione iniziale alla pressione finale, evidentemente accelerato e infatti all'uscita la velocità della supersonica, ricordate, manca la maggiore di 1, questo ugello in realtà è un convergente divergente e abbiamo detto che è un, si chiama, ugello di lavatoio. Bene, la velocità, questa è l'area della sezione normale, quindi metri quadri, la velocità chiaramente espressa in Mach per esempio fa una cosa del genere, quindi questo è il numero di Mach. E l'altra cosa che è venuta fuori è che nella sezione di gola, cioè la sezione dove l'area è minima, appunto si chiama sezione di gola, il numero di Mach è pari a 1, quindi il flusso è subsonico in questa zona, è sonico nella sezione di gola, è supersonico in quest'altra zona, la zona di destra, ed esce dall'ugello a una velocità molto supersonica. Questo è il riassunto molto veloce di ciò che abbiamo scoperto ieri facendo quel semplice esercizio. Bene, questa cosa in realtà è molto interessante perché è una peculiarità dei flussi di fluidi comprimibili che da questo punto di vista evidentemente si comportano in maniera differente rispetto ai fluidi incomprimibili. Infatti noi se vogliamo accelerare il fluido incomprimibile utilizziamo un convergente e in questo caso abbiamo detto che è un ugello, che sia un ugello di Bernou. Bene, la domanda adesso è ma se avviene questa cosa forse anche necessario, anzi sicuramente necessario trovare un legame funzionale tra l'area della sezione e le altre grandezze, in modo che in effetti da ingegnere sono in grado di prevedere quale deve essere la forma di un condotto di questo tipo affinché io raggiunga all'uscita le condizioni desiderate. E allora è proprio questo quello che cerchiamo di fare adesso, cioè cerchiamo di trovare questa relazione funzionale e per trovarla utilizziamo la legge di conservazione della massa, la quale ovviamente ci dice semplicemente che la portata massica all'interno del componente è costante e già che la portata massica è pari a rho per la velocità per l'area della sezione ed è una costante, allora posso scrivere che il differenziale dm punto che è uguale a dm punto su dv più dm punto su dv più dm punto su da sarà pari a 0, evidentemente. e seguendo queste semplici derivate ciò che ottengo è w a del rho più rho a dw più rho dv più dv da uguale a 0 e dividendo tutto per rho rho a dv a cioè una portata massica all'espressione e scrivo qui sulla destra e questa relazione è fuori dalla differenziale della portata massica che ovviamente è costante per la legge di conservazione della massa la seconda relazione che utilizziamo è la conservazione dell'energia la quale ci dice che in ogni sezione dovrebbe essere h più v quadro mezzi è uguale a costante ricordiamoci che abbiamo iniziato a parlare di questo caso particolare premettendo che moltissime applicazioni ingegneristiche di interesse pratico sono schematizzabili come flussi di fluidi comprimibili adiabatici isoentropici vi ricordate questo aspetto? di conseguenza in queste condizioni in assenza di scambio di energia meccanica di energia termica ovviamente la legge di conservazione dell'energia si riduce a questa scrittura e facendone il differenziale dh più il differenziale di questo termine è 2dv mezzi quindi 2dv è uguale a 0 ricordando che la trasformazione isentropica dalla seconda di inizio avremo tdv è uguale a dh meno ddv tdv è uguale a 0 e quindi la terza relazione è dh uguale a ddv sul rho bene, con queste tre relazioni siamo in grado di trovare il legame funzionale che stiamo cercando allora, da quest'ultima relazione dh uguale a ddv sul rho ottengo l'espressione da sostituire nella seconda relazione per cui sostituendo questo dh qui ottengo che, lo scriviamo qui dp sul rho più w ddv è uguale a 0 dividendo tutto per w al quadrato ottengo un'espressione ddv su w è uguale a meno dp sul rho ora, come potete immaginare, questa espressione qui la vado a sostituire ottenendo ddv sul rho meno dp, qui c'è il doppio v quadro che è diventato il doppio v quadro sul rho più dA su A e variazione ora non stiamo cercando la legge che esprime la variazione dell'area quindi dA su A posso mettere in evidenza dp su w quadro rho 1 meno ddv su rho più dA su w quadro rho dp diviso impegnate a scrivere a scrivere a scrivere nel frattempo mi avete fatto notare giustamente che in questo passaggio è ironiamente trasformato la derivata totale la derivata parziale quindi ho corretto queste sono tutte derivate totali quelle della pressione correggete anche voi ovviamente un errore della trascrittura e siamo arrivati a questa espressione anche qui sotto questo è un dp e questo è un dv ok, correggete anche voi da posto ora ricordiamo che poiché è questa espressione ben fuori anche utilizzando questa questa espressione qui voglio dire è valida per trasformazione isoentropica sostanzialmente vuol dire che questo dp su d rho è un dp su d rho a entropia costante perché siamo di fatto l'uomo isentropica ed è proprio la definizione di velocità del suono nel mezzo al quadrato ricordate c quadro uguale a dp su d rho a entropia costante quindi qui abbiamo il doppio v quadro di fatto diviso c quadro che è la definizione di numero di Mach giusto? quindi il tutto è uguale a dp su doppio v quadro rho uno meno numero di Mach al quadrato ma poiché questo dp eccolo qui su doppio v quadro rho è anche uguale almeno dw su w questo è uguale anche a meno dw su w uno meno Mach al quadrato e questa è l'espressione che stavamo cercando e adesso commenteremo insieme ora che cosa ci dice questa espressione? allora se guardiamo l'uguaglianza tra dA su A e il primo termine cioè dp su eccetera eccetera osserviamo che dA e dB hanno lo stesso segno se il numero di Mach è minore di uno quindi se il flusso è subsonico questo vuol dire che quando il flusso è subsonico se lo voglio se voglio far diminuire la pressione cioè voglio che il fluido espanda devo diminuire l'area perché hanno dA e dB hanno lo stesso segno e di conseguenza se voglio far espandere un flusso subsonico devo utilizzare un convergente giustamente quando arrivo alla condizione di Mach pari a uno sostanzialmente quello che ho ottenuto è che il dA su dB è pari a zero ok e perché posso scrivere anche il dA su dB è uguale a W uguale a ro eccetera quindi dA su dB uguale a zero vuol dire che nel piano area pressione ho raggiunto un punto di minimo analiticamente no? perché se questa è la ADP sostanzialmente il punto di minimo è analiticamente dove dA su dB uguale a zero e quindi il punto di minimo questa cosa che vi ho appena detto ci dice che il minimo di questa curva si trova dove il Mach il numero di Mach è pari a uno analiticamente ce lo dimostra questa relazione dopodiché il fluido diventa supersonico uno meno Mach al quadrato diventa minore di uno perché Mach è maggiore di uno e allora le A e DB a questo punto hanno un segno opposto quindi se voglio che il fluido continui ad espandere questa volta non devo avere un convergente ma un divergente perché Dp deve diminuire e D-A deve aumentare ok allora questa relazione ci dice che se voglio un'espansione continua da F e all'uscita avrà un fluido che si muove con velocità supersonica deve avere un tratto convergente nella parte subsonica poi avrò il punto di minimo che corrisponde proprio a Mach pari a uno l'abbiamo visto e poi un tratto divergente nella parte supersonica questo è il legame area-pressione se invece volessi guardare il legame area-velocità va da sé che questa è un'equazione differenziale poi integrata ci dà la legge di variazione dell'area questo credo che sia abbastanza in questo caso notiamo che D-A e D-W in realtà hanno segno opposto questo significa che se il numero di Mach è minore di 1 quindi siamo sul flusso subsonico se D-A diminuisce D-W aumenta quindi un ugello un convergente farà aumentare la velocità di un fluido che si muove a velocità subsonica però se questo fluido si muove a velocità supersonica poiché 1-H al quadrato diventa minore di 1 allora D-A e D-W avranno lo stesso segno a velocità supersonica e allora se prendo un flusso supersonico e lo faccio come dire muovere all'interno di un convergente magari pensando che il convergente lo accelera ancora di più nella realtà il convergente ha l'effetto contrario lo rallenta lo riporta subsonico lo riporta subsonico e poi che succede? provate a immaginare intuitivamente quello arriva supersonico all'interno dell'ugello in questo modo del convergente con un numero di Mach maggiore di 1 qui rallenterà e se questo tratto di condotto è sufficientemente lungo ad un certo punto raggiungerà la condizione sonica Mach pari a 1 per esempio immaginiamo che la condizione sonica venga raggiunta qui a una certa distanza in realtà però se questa è la distanza necessaria a raggiungere la condizione sonica a partire dalla velocità di ingresso che la chiamo L' questo divergente questo convergente scusatemi è lungo L che è maggiore di L' quindi all'uscita che cosa ci sarà? che succede? allora per stimolare il vostro ragionamento facciamo guardiamo il problema da un altro punto immaginiamo di avere sempre il solito serbatoio molto ampio va bene? e colleghiamo un convergente a un certo punto in questo modo allora disegno un po' male comunque questo è un convergente adesso cosa succede? noi sappiamo che il fluido all'ingresso di questo convergente avrà velocità praticamente zero poi inizierà ad accelerare secondo quanto abbiamo scoperto a un certo punto raggiungerà la velocità sol bene? bene quindi qui ho una certa pressione p con i e qui ho una pressione in uscita che chiamo p con u lì abbiamo detto p con i p con f allora p con f all'uscita questo questo delta p ingresso e uscita sarà ciò che governerà il flusso perché questa p con f che in realtà si chiama back pressure e si indica di solito con p con b appunto perché è una back pressure questo delta p determinerà il flusso l'entità del flusso infatti basti pensare che se il p con f è uguale a p con i non c'è delta p non ci sarà flusso per capirci bene allora se questa pressione è abbastanza bassa come in questo caso da avere un flusso supersonico se il condotto è un convergente divergente quando questo condotto si trasforma a parità di lunghezza in un convergente v vuol dire che io a un certo punto teoricamente raggiungo la velocità del suono più stop bene ma la domanda è ma se io raggiungo la velocità del suono magari qua il che significa dato questo delta p è sufficiente una lunghezza l' di questo condotto convergente per uscire con una velocità sodica avendo una lunghezza l superiore rispetto a l' la domanda è quali saranno le condizioni di uscita se teoricamente io già con una lunghezza inferiore ho raggiunto le condizioni soniche capito cosa intendo dire il delta p è sempre lo stesso semplicemente il convergente diventa più lungo quindi da l' dove la condizione sonica proprio all'uscita raggiungo mac 1 passo a l parità di delta p parità di forzante ecco che cosa succede? secondo voi che cosa succede? questo dovrebbe per continuare a aumentare il numero in mac dovrebbe seguire un divergente quindi in quel caso visto che continua a convergere va a prendere il patrimonio energetico dalla pressione rallenta rallenta quindi va a esce al mac meno di 1 secondo me nel momento in cui arriva a velocità cioè con mac pari a 1 poi scende sulla soglia del subsonico a quel punto ricomincia ad accelerare e cioè oscilla attorno al valore di mac pari a 1 questo è un ragionamento che mi sembra più logico in effetti questo è un ragionamento intuitivo arriva a mac pari a 1 invece di trovare il divergente trovare il convergente intuitivamente posso pensare non riesco più ad accelerare anzi da lento ma poi ritrovo di nuovo un convergente che mi fa riaccelerare insomma sostanzialmente rimane bloccato al mac pari a 1 quindi vuol dire che anche se la lunghezza passa da L prima a L io avrò un mac pari a 1 sempre nella condizione di uscita capite? col primo convergente che è questo che vi faccio marcato qua è che dico loro mac pari a 1 stava all'uscita qua col convergente più lungo mac pari a 1 sta sempre all'uscita giusto? certo un convergente più corto di L' presenterà l'uscita a un flusso subsonico perché non era stato abbastanza lungo da accederlo fino a mac e allora che cambia tra l'ugello convergente 1 quello colorato e quello non colorato cambia la portata massima perché se voi ci pensate abbiamo un flusso che si muove a velocità sonica sia qua che qua ma intuitivamente qui dovrò attraversare un'area più piccola quindi la portata che potrà passare sarà inferiore quindi a parità di delta P non avrò fatto altro che diminuire la portata avete capito? beh allora questo è un aspetto interessante che diciamo merita un approfondimento perché questo principio che è detto così in maniera intuitiva abbiamo capito che cosa intendiamo ma nella realtà volendo essere un pochino più come dire precisi nella terminologia quello che stiamo dicendo è che se prendo un convergente per esempio come in questo caso io posso controllare il flusso in uscita attraverso il controllo della back pressure cioè della P con F che in realtà vi ripeto sui libri di testo se magari andate ad approfondire su qualche libro di testo poiché questi libri spesso sono in inglese ormai si trovano quasi sempre in inglese troverete la dicitura back pressure P con B allora il controllo della P con B che nel nostro caso è P con F che abbiamo chiamato così e dell'area di uscita della sezione dell'ugello di fatto si trasforma in un controllo della portata massica e di fatto questo oggetto diventa come fosse un front un misuratore di portata massica e viene utilizzato per esempio in ambito medico in altri ambiti questo principio per controllare la portata ovviamente noi abbiamo visto in maniera molto semplice ma il principio di base è proprio questo quindi diciamo che è importante vedere approfondire questi aspetti però per poterli approfondire opportunamente già qui abbiamo introdotto il numero di Mach e dopo di che abbiamo visto qual è il legame tra l'area e la pressione e la velocità eccetera a questo punto è conveniente scrivere le proprietà temperatura pressione densità in funzione del numero di Mach risulta essere una cosa abbastanza utile anzi sicuramente molto utile già che abbiamo visto che il numero di Mach condiziona il tipo di flusso quindi è importante legare le proprietà a questo punto allora vediamo come è possibile farlo in realtà è una cosa molto veloce da fare grazie a tutti Grazie. Ricordiamo che P0 è uguale a P più 2P4 più 2Cp Ricordate questa relazione? Che veniva fuori dalla scrittura dell'entarpia dell'istagno e dal fatto che il fluido è un gas ideale per cui H è uguale a Cp. Allora, chiaramente se divido tutto per qui P0 su P è uguale a 1 più W4 su 2Cp per P e va bene. A questo punto forse ricorderete da fisica tecnica una relazione che è la relazione di Meyer che avete visto quando avete studiato i gas ideali la quale ci dice che Cp meno Cp è uguale a 10. Questa relazione ci torna utile perché dividendo tutto per Cp otteniamo K meno 1 uguale a R su Cp e successivamente dividendo tutto per K F su Cp diviso K K avere Cp su Cp K meno 1 su K uguale a R su Cp E allora e allora posso trovare un'ispressione del Cp che è uguale a Kf su K meno 1 che vado a inserire qui sotto e facendo questo il tutto diventa pari a 1 più K meno 1 mezzi e moltiplica W quadro K F di ricordando abbiamo visto ieri che la velocità del suono nel mezzo è radice di K R di questo è definizione è il numero di Mach e di conseguenza il punto è pari a 1 più K meno 1 mezzi per il numero di Mach al quadrato e quindi abbiamo un'espressione che lega la temperatura di istagno alla temperatura strada attraverso il numero di Mach e ovviamente il tipo di fluido entra in gioco attraverso K che è il rapporto tra i caloristi Cpc bene allora a questo punto trovare le altre relazioni tra pressione e F0 densità F0 è semplice che ricordate che F0 su P è uguale F0 su P è arrivato a K su K meno 1 anche questa espressione l'abbiamo ricavata ieri e quindi nel nostro caso è pari a 1 più K meno 1 mezzi per il numero di Mach al quadrato elevato a K su K meno 1 infine ed ecco le espressioni cercate ora se voi vi chiedete di scrivere io le scrivo qui a sinistra in modo che ce le conserviamo sulla lavagna a a a a a Grazie. Grazie. Ora, la domanda è, queste espressioni ci danno un legame tra temperatura di ristagno e temperatura statica, tra pressione di ristagno e così via, in funzione del numero di Mach. Allora, quando raggiungiamo nella sezione di gola del convergente-divergente numero di Mach pari a 1, si dice che il flusso diventa saturo, in inglese ciocchi, diventa saturo. E sostanzialmente in quelle condizioni le proprietà T, P e Rho si definiscono critiche, però bisogna stare attenti a non confondere queste proprietà definite critiche con le proprietà critiche che avete utilizzato in fisica tecnica. Ok? Questa significa che sono la pressione, la temperatura, la densità, nella condizione sonica, all'interno della sezione di gola. Vengono definite critiche in letteratura, indicate con l'asterisco, ma non sono, attenzione, temperatura, pressione critica che avete visto a fisica tecnica. Questo deve essere chiaro. Però, però, la cosa interessante è che se guardiamo queste espressioni, quando il numero di Mach è unitario, il rapporto tra la temperatura di ristagno e la temperatura critica, appunto, e così via, per la pressione e densità, dipende solo dal tipo di fluido attraverso K. E infatti avremo semplicemente che T0 su T star sarà fare a 1 più K meno 1 mezzi, che è uguale a 2, 2 più K meno 1, se faccio meno o meno multiplo, cioè è uguale a K più 1 mezzi. E di conseguenza, il 0 su T star sarà fare a K più 1 mezzi, elevato a K più K meno 1, lo 0 su T star è uguale a K più 1 mezzi, elevato a 1 più K meno 1. E nel caso dell'aria, ovviamente, sapendo che K vale 1.4, tutti questi numeri qui, per esempio, li possiamo calcolare facilmente, ma nel caso di qualsiasi gas. E allora qual è l'utilità di queste relazioni? L'utilità sta nel fatto che se io ho una determinata pressione di ristagno, temperatura di ristagno e densità di ristagno, che sono le condizioni del serbatoio a cui vado a collegare il convergente divergente, sono già in grado di prevedere quale sarà, attraverso queste relazioni, il valore della temperatura, della pressione e della densità nella sezione di gola, quando il fluido raggiunge velocità sonica. Non solo, sarò anche in grado di prevedere se, per esempio, nel caso di condotto convergente, il primo tratto convergente, sono in grado, oppure no, di raggiungere la velocità sonica, perché so che devo garantire questo racconto, per esempio, tra pressione di ristagno e pressione critica, se non ce l'ho, evidentemente la condizione sonica non la raggiungo. Capite? Ora, queste relazioni sono utili, come dicevo prima, perché abbiamo scoperto che attraverso il controllo della cosiddetta back pressure, che chiamiamo P con P, io riesco a controllare di fatto il flusso di questo fluido comprimibile attraverso il condotto che sia un convergente o che sia un convergente divergente. Allora, iniziamo ad analizzare il caso di flusso attraverso un condotto convergente. Tenete presente che ovviamente tutte queste considerazioni sono sempre relative a un flusso adiabatico e isoentropico, questo deve essere chiaro, che trova largo impiego nel caso pratico ingegneristico e abbiamo detto ieri che uno dei possibili esempi è quello del flusso tra le pare di una turbina. Capite? Quindi anche, per esempio, nei prossimi esami che andrete a fare, il flusso di un fluido comprimibile ad elevata velocità, quindi area ad elevata velocità tra le pare di una turbina, segue queste leggi. Capite cosa voglio dire? Quindi questo che stiamo facendo è importante anche per il proseguo del vostro fluido. Allora, consideriamo quindi il caso di un condotto semplicemente convergente. Abbiamo la pressione di ristagno, la densità di ristagno e la temperatura di ristagno nella sezione di ingresso. Questo perché, come detto, stiamo ritenendo che questo convergente sia collegato ad un grosso serbatoio, per cui possiamo ritenere che all'interno di questo serbatoio la velocità sia sostanzialmente nulla e allora l'etalpia coincide con l'etalpia di ristagno la pressione di ristagno e così via. La back pressure è la pressione che io ho nell'ambiente all'interno del quale questo convergente deve andare a scaricare il flusso. Quindi immaginiamo che questo ambiente sia pure lui un grosso serbatoio, no? Come posso fare a controllare questa back pressure? Ad esempio mettendo una valvola di regolazione qui. Quindi, attraverso questa valvola di regolazione io controllo la pressione dell'ambiente all'interno del quale questo convergente deve scaricare il flusso. Avete capito? Ora, la P con P non è detto che coincida con la pressione che si trova esattamente nella sezione di uscita del convergente, che abbiamo chiamato P con F fino ad ora e continuiamo a chiamarla P con F. Quindi pressione finale. La P con P potrebbe essere differente. Allora che cosa succede? Se vado a rappresentare sostanzialmente l'andamento della pressione lungo il convergente, quindi in funzione di un'asse che chiamo X, se questa è la sezione F del convergente, mentre questa è la sezione 0, chiaramente in 0 avremo la pressione di distanza. se la P con P vale proprio P0, lungo il convergente in questo caso non avrò altro che un'andamento della pressione fatto così, cioè non vale la pressione. perché a sinistra e a destra c'è la stessa pressione, evidentemente, abbastanza banale. Dal punto di vista pratico che cosa succede? Succede che se non c'è delta P non c'è flusso, quindi nel convergente non c'è flusso. Ok? Dopodiché io inizio ad abbassare la pressione, magari la porto a questo valore qua, e allora osserverò un andamento della pressione fatta così. Ovviamente P con P è minore di P con 0 e se all'uscita il numero di Mach è minore di 1, cioè io a mano a mano ridinuisco la pressione, do al fluido un delta P da sfruttare, a seconda del delta P che è a disposizione, accelera, giusto? Chiaramente, se il delta P è piccolo, questo convergente intuitivamente non sarà sufficiente a raggiungere la velocità solida, e quindi arriverà all'uscita con velocità subsonica. In questa condizione la P con B coinciderà con la P con F, cioè con la pressione di uscita qua. Quindi su questa superficie tratteggiata avrò esattamente la stessa pressione che regna nel grande serpatoio di scarico. Ma se continuo ad abbassare ancora la pressione, la back pressure, a un certo punto troverò una condizione in cui la P con B è proprio uguale alla P star, perché la P star è il valore della pressione che abbiamo definita critica in corrispondenza della quale il flusso raggiunge nella sezione di gola, quindi lì dove ho l'area minima, raggiunge la velocità assonica. Qui avremo quindi P con B uguale a P star, che è uguale anche a P con F, e il numero di Mach in questo punto sarà proprio pari ad 1. Bene. E a questo punto mi chiedo, ma se abbassa ancora la pressione, la P con B, la back pressure, la faccio diventare minore di P star, per quanto detto il flusso non continuerà ad accelerare all'interno del convergente, e io per quanto detto prima avrò sempre la condizione sonica all'uscita. Quindi vuol dire che pure abbassando la pressione e portandola per esempio qua, dove metto questo quadratino qui, vedete? Io nella sezione di uscita, cioè qui, avrò sempre Mach uguale a 1, cioè avrò sempre P star, perché se Mach è uguale a 1 vuol dire che la condizione è critica. il flusso è saturo, quindi vuol dire che se P con B è minore di P star, avrò P star ancora qui, sempre Mach uguale a 1 qui nella sezione di uscita, e poi subito dopo la pressione crolla a P con B. In questo modo. Avete capito? Allora questo ci dice che se voglio controllare il flusso con la P con B, una volta che ho raggiunto la condizione sonica, ciò che abbiamo visto prima ci dice, guarda, raggiunta la condizione sonica, tu avrai il valore della pressione critica di star, lì dove l'area è minore, l'abbiamo visto con la relazione di prima, da A su A uguale, eccetera. Lì dove l'area è più piccola, cioè quindi nella sezione di uscita, ci avrai sempre una condizione sonica. Anche se abbassi la pressione di uscita del serbatoio di scarico, la cosiddetta back pressure, poiché in Mach sarà pari a 1 all'uscita, lì dovrà per forza avere P star. Quindi uscirà sempre il flusso, non sentirà assolutamente un abbassamento di pressione ulteriore nel serbatoio di scarico. e volverà sempre allo stesso modo all'interno del convergente. Dopodiché subito dopo l'uscita, ovviamente, porterà la pressione all'interno del serbatoio. Avete capito? Bene. Capito questo, ci chiediamo come la portata massica a questo punto possa essere legata alle caratteristiche del convergente, caratteristiche geometriche, evidentemente, quindi l'area, e alle condizioni di ristagno all'interno del serbatoio, quello grande che sta a monte. Va bene? Perché intuitivamente io potrò controllare sicuramente la portata massica attraverso la P con B, perché cambia la velocità. Però dopo le condizioni soniche non posso fare nulla. Abbiamo scoperto adesso. Quello che posso fare è effettivamente andare a modificare la geometria dell'ugello in modo da avere un'area di, diciamo, nella sezione dove il fluido e il flusso è stato differente, oppure modificare il valore delle grandezze di ristagno, cioè pressione e temperatura all'interno del serbatoio a monte. Però, ovviamente, per avere un controllo devo capire come variano queste grandezze. Allora, ciò che ci interessa è la portata massica che è uguale a ρ per W per A. Ovviamente T è uguale a ρ per T, quindi posso prendere questa ρ e sostituirla qui dentro. Inoltre, abbiamo che il numero di Mach è uguale alla velocità diviso la velocità del suono che è radice di K e F e T. Quindi posso prendere questa W e sostituirla qua dentro. Questo vi permette di scrivere il tutto come R e T su P per numero di Mach per radice di K e R e T per l'area. E sistemando un po' le cose il tutto può essere scritto come R per il numero di Mach per l'area per la radice mi sono dimenticato la pressione anzi, la mettiamo dopo, va. Per la radice se porto qui ho messo R e T su P ma il P su R e T vedete P su R e T P su R e T correggetevi se avete sbagliato anche voi quindi sistemiamo all'area uguale pressione per il numero di Mach per l'area per la radice di K e R e T poi porto dentro la radice R e T quindi al denominatore R quadro P quadro faccio qualche passaggio in più solo per una questione di chiarezza quindi tutto posso scriverlo come P su radice di T per il numero di Mach per l'area per la radice di K su R giusto? Adesso ricordiamo che il 0 su P è uguale a 1 l'abbiamo visto prima quindi io lo riscrivo poi non è necessario riscriverlo allora da queste relazioni che abbiamo ricavato prima potete immaginare che sono in grado di scrivere in funzione del numero di Mach di K e delle grandezze di ristagno P0 e T0 sono in grado di riscrivere il rapporto P su radice di T ok? che quelle non sono grandezze di ristagno però posso legare le grandezze di ristagno con queste relazioni e in particolare mettendo insieme queste due P su radice di T sarà pari a P0 su radice di T0 che moltiplica allora 1 più K meno 1 mezzi numero di Mach al quadrato elevato a 1 metro ed è questo per il suo fatto quest'altro è 1 più K meno 1 mezzi numero di Mach al quadrato elevato a K su K meno 1 sistemando un po' le cose il tutto è uguale a P0 sul radice di T0 che moltiplica 1 diviso 1 più K meno 1 mezzi Mach al quadrato elevato a K su K meno 1 meno un mezzo se faccio il minimo comune multiplo questo è uguale a 2 K meno 1 2K meno K più 1 cioè uguale a K più 1 diviso 2 K meno 1 e questo facendo il minimo comune Sostituete questa espressione qui dentro alla fine ottengo ciò che stavo cercando cioè la portata massica è uguale allora P su radice di T abbiamo detto che P0 la radice di T0 la posso portare poi qui dentro quindi scrivo P0 per il numero di Mach per l'area per la radice di K su R di T0 è tutto diviso 1 più K meno 1 mezzi numero di Mach al quadrato elevato a K più 1 per 2 K meno 1 ed ecco l'espressione della portata massica la quale ci dice che questa portata massica è una funzione dell'area del numero di Mach ovviamente di K quindi del tipo di fluido e della pressione e temperatura di ristante qua invece che K io metterei il fluido il tipo di fluido qua perché la dipendenza dal tipo di fluido è non solo attraverso K ma anche attraverso E no? quindi metterei tipo di fluido fissato ovviamente il tipo di fluido dipenderà dall'area dal numero di Mach da P0 e questa è la relazione che stavamo cercando bene arrivati a questo punto però noi siamo partiti dicendo che quel convergente lì in condizioni soniche quant'altro alla fine come principio di funzionamento può essere utilizzato per controllare la portata massica ad esempio controllando le grandezze la pressure volendo oppure controllando la pressione e temperatura di ristagno quindi queste due e quest'area qui come faccio sostanzialmente? è semplice perché se io faccio in modo che a riuscita ci siano sempre condizioni soniche vorrà dire che io otterrò sempre la portata massica massima infatti derivando non lo faccio lo scrivo su questa espressione rispetto al numero di Mach e ponendo il tutto pari a 0 ottengo la portata massica massima si ottiene che la M punto massima la si ottiene per il numero di Mach pari a 1 facendo questa operazione si scopre che la condizione di massimo si ottiene per Mach pari a 1 ed è facile osservare che se qui sostituisco Mach pari a 1 ottengo P0 per l'area per la radice di K su R P0 diviso qui viene K più 1 mezzi perché viene 2 più K meno 1 si K più 1 mezzi elevato a K più 1 più 1 diviso 2 K meno 1 e allora questo significa che se all'uscita ho un condotto convergente tale che la sua lunghezza è diciamo sufficiente ad avere sempre condizioni soniche in un certo range di P0 e T0 nota l'area di uscita cambiando questo P0 e questo T0 avrò una portata massica che è questa essendo sicuro di aver raggiunto la condizione sonica di uscita quindi io controllando questo fare la portata massica al contrario se misuro questi due e so che sto in condizioni soniche di uscita avrò il valore della portata quindi sulla portata comunque sostanzialmente sulla base di queste relazioni abbiamo scoperto che c'è un legame tra la portata massica massima e appunto questi paranti però questo sempre nel caso di condotto convergente cioè un condotto che non consente al flusso di fluido di superare la velocità sonica può raggiungere al massimo la velocità sonica e lì si ferma ora il condotto convergente come dicevamo ieri è un qualcosa che nella nostra come dire schematizzazione dei problemi ingegneristici è un concetto ricorrente nel senso che noi nella pratica siamo più portati a immaginare e a pensare flussi di fluido di fatto a bassa velocità perché nella esperienza quotidiana vediamo più spesso questo tipo di flussi e di conseguenza siamo portati a pensare in maniera diciamo così automatica che un convergente abbia sempre l'effetto di accelerare una portata di fluido nella realtà però abbiamo scoperto che per flussi sonici e supersonici questa regola si inverte e allora l'ultima cosa che vogliamo vedere e poi abbiamo terminato vogliamo capire adesso che cosa succede se quel prodotto che ho cancellato e poi avete quel convergente che ho cancellato e poi avete diciamo sul vostro quaderno diventa un convergente divergente cioè la situazione è collego un convergente divergente ad un grosso serbatoio di cui conosco pressione e temperatura e controllo la back pressure come ho fatto prima l'unica cosa è che questa volta invece di avere un semplice convergente ripeto ho un convergente divergente le cose diventano abbastanza differenti vediamo perché quindi la situazione è questa serbatoio grande convergente divergente in questo modo qua serbatoio di scarico se vogliamo dire così se vogliamo utilizzare questa terminologia e diciamo che io controllo la pressione e la back pressure attraverso una valvola qui va bene quindi qui avrò la back pressure che io controllo qui avrò P0 e P0 questa sezione qui l'abbiamo chiamata e continuiamo a chiamarla F quindi qui avrò la P1F e chiaramente all'ingresso avrò la pressione P0 e la temperatura P0 ora noi abbiamo visto ieri che se vado a rappresentare in funzione della pressione le varie grandezze di interesse allora entro mettiamo la pressione potremmo mettere la pressione qua forse è meglio come abbiamo fatto prima vai qui mettiamo P0 esattamente come prima mettiamo qui quella che abbiamo chiamato X se ricordo bene ecco in questo modo quindi questa è la sezione d'ingresso 0 e questa è la sezione di città perché così è perfettamente uguale al caso di prima solo che è un convergente divergente ora se P con P come prima è uguale a P0 allora non avremo flusso e il tutto sarà una cosa di questo bene adesso noi abbiamo visto che se io lascio espandere questo fluido attraverso il convergente divergente ho un andamento della pressione che fa una cosa di questo tipo quindi avrò una pressione di uscita che chiamo P chiamiamola P' vai P' primo e contestualmente avrò una velocità che raggiungerà il valore all'uscita di maggiore di U quindi questo avviene andiamo a guardare l'area avviene nella sezione di gola che questo è l'area quindi qui avrò sostanzialmente ma pari quindi questa è la situazione se io ho questa pressione all'uscita ovviamente il fluido espande la velocità accelta la diventata supersonica è sonica nella sezione di gola e così via questo però quindi dicevamo se la pressione è minore o uguale ad un certo valore all'uscita insomma seguirò questo andamento lungo l'ugello un andamento continuo quindi la pressione è paria con continuità e la velocità diventa supersonica ora però se all'uscita ho una pressione che non è un delta p che non è sufficiente che cosa succederà? succederà che nel tratto convergente la velocità aumenterà quindi la pressione diminuirà ma arrivato nella sezione di gola così il numero di Mach non sarà unitario perché il delta p non era sufficiente ad accelerare il flusso fino a velocità sonica nella sezione di gola quindi un flusso subsonico si troverà ad attraversare un divergente il quale lo rallenterà nella ipotesi di flusso adiabatico esentropico quindi la trasformazione irreversibile tanto perde tanto riacquista dopo e ritorna ovviamente alla pressione finale che scusate mi riacquista non ritorna qua riacquista come pressione di uscita la pressione di uscita di ristagno guarda la pressione di ingresso ma non la pressione statica chiaramente perché c'è un contributo di ristagno ora questa cosa qui avviene fino a che continuando a diminuire la pump pressure arriverò alla situazione in cui il fluido raggiunge l'ugello scusatevi raggiunge la condizione di gola velocità appena sonica ma non riesce a superare questa sezione di gola con velocità super sonica per cui poi continua ad accelerare ma di fatto appena supera la sezione di gola si ritrova per allentare di nuovo quindi si trova giusto prima della possibilità di accelerare di nuovo seguendo ancora un andamento di questo tipo ma poi riprende a ralentare che cosa succede a questo punto se scelgo una pump pressure ancora più bassa quindi parto con il valore P0 nessun flusso inizio a scendere con controllo la pressione P con P inizia il flusso ma è subsonico nella sezione di gola quindi arriva nella sezione di gola e rallenta di nuovo poi diminuisco ancora a un certo punto arriva nella sezione di gola che praticamente è sonico ma non supero questa sezione di gola con velocità sonica per cui continua ad accelerare ma di nuovo rallenta va bene abbasso ancora un pochino allora questa volta arrivo nella sezione di gola che è sonico ed è nella condizione di poter accelerare all'uscita quindi supera la sezione di gola trova il divergente è supersonico bene allora continua ad accelerare ma la pressione di uscita è maggiore di quella che io mi dovrei avere per avere un andamento bello continuo della pressione fatto in questo modo quindi lui continua ad accelerare ma fino a un certo punto a questo punto che cosa avviene? avviene una cosiddetta onda d'urto una shockwave normale cioè in direzione normale è normale la direzione del flusso ecco quello che succede è che a causa di quell'onda d'urto la pressione presenta una brusca discontinuità che riporta localmente questo grafico non è proprio il massimo lo ammetto comunque trova appena questa questa onda d'urto e il fluido passa da velocità supersonica a velocità subsonica in modo repentino e direi violento ok ora se la pressione è giusto al di sotto del valore che ci consentiva di raggiungere la velocità sonica nella gola ma poi non accelerava ritornava a velocità subsonica alla fine se vado giusto sotto vuol dire che questo onda d'urto avverrà poco dopo la sezione di gola se continuo a scendere con la pressione di uscita l'onda d'urto avverrà sempre più avanti rispetto alla sezione di gola finché troverò un valore della pressione di uscita della back pressure tale che l'onda d'urto avverrà nella sezione di uscita del divergente e in tutto questo range di pressione P con B l'onda d'urto sarà sempre di tipo normale cioè avverrà in varie zone del divergente spostandosi verso l'uscita a mano a mano che la P con B diminuisce e ogni volta però il fluido passa da velocità supersonica a velocità subsonica in seguito all'onda d'urto quello che cambia è che l'ampiezza del salto chiaramente diventa differente perché una volta il salto lo fa qua una volta lo fa qua una volta lo fa qua capite bene che l'ampiezza del salto è differente e quindi l'onda d'urto diventa più impattante una volta che l'onda d'urto avviene all'uscita e che può avvenire per un certo valore della buck pressure che potrebbe essere questo se io mi trovo in questo range si creano delle onde d'urto o clickware perché partono dal bordo di uscita e diventano o clickware da questo punto in poi invece tutto funziona correttamente va bene allora affinché tutto ciò che ci siamo detti continui a funzionare io non mi devo trovare in presenza di onde d'urto perché le onde d'urto non sono isentropiche sono un meccanismo che sicuramente non è reversibile sicuramente non è isentropico quindi va bene se non raggiungo la condizione sonica il tutto isentropico posso prevedere quello che succede con le relazioni scritte va ancora bene se raggiungo la condizione sonica e poi rallenta perché non ci sono discontinuità va male se ci sono le onde d'urto normali o clickware e dopo ancora funziona se appunto siamo in una condizione di uscita tale da non avere più onde d'urto allora tutti questi aspetti vanno tenuti in debita considerazione quando si dimensionano questi convergenti divergenti che ovviamente per quello che ci siamo detti di come dire sono descritti da relazioni che legano le proprietà di ristagno la portata eccetera eccetera tra le altre cose all'area della sezione di uscita ora vi faccio un invito a pensare non so quanti di voi hanno visto video di aeroplani a relazione caccia per intenderci che magari accendono i motori decollano eccetera se ci avete fatto caso quando il motore è diciamo a passi giri sostanzialmente l'ugello dietro è convergente ma quando accelerano e peggio ancora danno il post bruciatore si apre completamente diventa un divergente questo appunto perché la legge di variazione evidentemente dell'apertura di quegli ugelli dietro al motore sarà tale da garantire sempre le migliori condizioni a flusso ed evitare che ho detuto sapete perché altrimenti quella diventa energia persa che non è più in proporzione ma d'altra parte non funziona nemmeno più bene perché il flusso all'uscita diventa magari subsonico ok quello è un esempio che magari se andate a vedere su youtube eccetera vedrete che quando danno tutto gas gli ugelli indietro si aprono adesso ultima cosa giusto per capire questo questo onda d'urto che che si verifica è un'onda d'urto molto sottile che sicuramente non è isoentropica ok e che però se io scelgo come volume di controllo quello che contiene l'onda d'urto e vado a scrivere i bilanci quindi la massa quindi di nuovo insieme all'onda d'urto quindi vedrò della massa che attraversa il volume di controllo m punto con 1 uguale m punto con 2 dopodiché faccio il bilancio di energia e il bilancio di quantità di moto quindi il bilancio di massa il bilancio di energia e il bilancio di quantità di moto come lo faccio quest'ultimo tenendo presente che sulle superfici di questo volume di controllo agiscono la pressione p con 1 e p con 2 per cui le forze sono date dalla pressione per la superficie e che cosa dice la conservazione della quantità di moto che la variazione della quantità di moto è uguale alla risultante delle forze esterne la risultante delle forze esterne è data dall'azione di questo delta p la variazione della quantità di moto è la massa per la differenza di velocità tra destra e sinistra ora prima della shockwave abbiamo velocità supersonica dopo abbiamo detto che è invece subsomica quindi c'è una variazione di velocità importante ora quindi mettendo insieme conservazione della massa conservazione dell'energia e conservazione della quantità di moto quello che si osserva è che su un piano ve lo dico giusto per completezza ma non andiamo nel dettaglio su un piano hs l'unione della conservazione della massa e conservazione dell'energia da loro una serie di punti che diciamo che rispettano entrambe queste leggi che giacciono su una linea che si chiama linea di fanno mentre conservazione della quantità della portata massica e della quantità di moto insieme giacciono su un'altra linea che si chiama linea di Rayleigh va bene Rayleigh eccetera ora lì dove si intersegano queste due vuol dire che tutte e tre sono soddisfatte cioè conservazione della massa dell'energia e della quantità di moto perché questo concetto è interessante intanto perché l'intersezione avviene in due punti caratterizzati da etropia differente quindi cioè diciamo tutte e tre le equazioni sono soddisfatte qui e qui e questi due punti hanno entropia differente quindi non sono alla stessa entropia da qui a qui avviene con da tutto lo stiamo nel italiano ma con da tutto io ho fatto una freccia in realtà se volessi fare una trasformazione dovrei farla tratteggiata perché essendo una trasformazione che non è una successione di stati di equilibrio io non posso ovviamente tracciare nel camino ma questa freccia indica che l'onda tutto ci farà saltare da qui a qui da pressioni più elevate a pressioni più basse e la velocità sarà ridotta perché il salto di entropia corrisponderà a una riduzione di velocità e ovviamente è tutto irreversibile ok chiaramente maggiore sarà l'intensità dell'onda tutto maggiore sarà questo salto avete capito? bene allora chiaramente noi non entriamo nel merito dell'onda tutto vogliamo semplicemente capire che questa è una problematica che esiste che è una problematica che nella modellazione perché questo è quello che ci interessa dei nostri problemi termofluidodinamici comprimibili può creare grossi problemi perché come la descriviamo capite che non è facile descrivere l'onda tutto numericamente e allora che cosa fare se ci troviamo nella condizione di dover modellare un flusso comprimibile quali sono le differenze a questo punto tutto ciò premesso le differenze sono semplici in realtà allora la prima differenza è evitando le onde d'un vi ricordate che l'equazione di conservazione della massa aveva un termine del rho su de t cioè la conservazione della massa era noi avevamo scritto prima tutte le equazioni di conservazione se andate a vedere sul vostro moderno le avevamo scritte in forma generale e poi le abbiamo particolarizzate nel caso incomprimibile la conservazione della massa era del rho su de t più la divergenza di rho u vetture u uguale a 0 lo ricordate ok mentre l'equazione di conservazione della quantità di moto era per esempio nell'ultimo x de u su de x più anzi era de rho u su de x più la divergenza di rho u un vettore uguale a meno de p su de x poi avevamo sostanzialmente i vari de tau anzi era de sigma x su de x più de tau y su de x più de tau y su de z su de z ora vi ricordo che queste sigma erano legate attraverso il modello di fluido luthioniano alle che abbiamo chiamate deformazioni e c'era una deformazione volumetrica lambda divergenza di u ve la ricordate andate a vedere sul vostro quaderno la trovate che abbiamo detto che è pari a 0 perché il fluido è incomprimibile ebbene quel termine lì non sarà più 0 questi termini qui dovranno essere scritti in questo modo perché rho non è più costante ma varia nello spazio e nel tempo se il fluido è comprimibile rho varia quindi questi termini devono tenere conto di questa variazione li dobbiamo risolvere in questo modo non con rho fuori e l'altro aspetto è che questa volta rho è un'incognita del problema quindi per esempio nel caso di dimensionare le incognite che avevamo erano pressione u v e doppio u quindi 4 e le equazioni erano conservazione della massa quantità di modo lungo x y 0 4 questa volta si aggiunge un'incognita rho quindi abbiamo bisogno di un'altra equazione qual è? un'equazione di stato per esempio l'equazione PV uguale RT questa equazione ci permetterà di legare la densità alla pressione e alla temperatura quindi nel caso di flusso isotermo alla pressione quindi dobbiamo risolvere un'equazione in più che non è un'equazione che implica così tante complicazioni ma le complicazioni in più sono dovute di fatto a questi termini e all'altra differenza di ok? questa è la differenza guardate la risoluzione diventa molto più complicata perché è molto più onerosa dal punto di vista computazionale la trattazione che abbiamo fatto ci serve per altre cose a capire che però in presenza di un dedotto insomma diciamo da ingegneri sapete che problema c'è sappiamo che possiamo fare una serie di controlli una serie di calcoli preliminari una serie di verifiche insomma sappiamo che il problema esiste nella realtà in questo corso simulazioni di flusso comprimibile nemmeno le facciamo quindi noi limitiamo il nostro interesse a flussi incomprimibili come abbiamo sempre visto però qualora dovesse succedere tipo di disgrazia da voi qualora dovesse capitare ecco che se suona meglio di fare una simulazione di un fluido comprimibile allora sapete come è prontata va bene allora abbiamo terminato questa parte oggi pomeriggio esercitazione a calcolatore domani volumi finiti ok ok buona giornata più tardi in questo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.